Musica Nuova puntata di Avvocati Rispondono. Oggi insieme all'Avvocato Bortolotti parleremo dei problemi della sua divisione in millesimi, delle proprietà e della loro revisione. Ci occupiamo di un'altra problematica molto delicata, molto sentita in ambito condominiale. Tutti noi abbiamo familiarità col termine millesimi. I millesimi sono quella misura con la quale si ricava l'importanza, la valenza del nostro immobile a livello proporzionale all'interno del condominio e sono quell'unità di misura soprattutto in forza della quale noi paghiamo la nostra parte di oneri condominiali. Può essere necessario, anzi frequentemente è necessario, rivedere la misura di questi millesimi in relazione a un dato immobile o addirittura a tutti gli immobili che compongono il condominio. È sempre stata una questione di grandissima delicatezza e causa di grandissimi scontri perché fino a prima della riforma del 2012 la revisione dei millesimi condominiali era possibile solo ed esclusivamente con un voto unanime dell'Assemblea. Oggi la situazione è leggermente cambiata in virtù della riforma del 2012 e è sempre necessario avere il voto unanime dell'Assemblea per le revisioni ma è possibile avere delle delibere a maggioranza, cioè 500 più 1 del valore dell'immobile in due casi importanti di sovente presentazione ossia quando ci troviamo di fronte a un errore oggettivo quindi anche numerico di calcolo quindi una divergenza oggettiva tra il valore attribuito in tabella millesimale e quello effettivo dell'immobile oppure quando ci troviamo nell'eventualità di una mutata condizione delle condizioni dell'edificio di una parte di esso in virtù della quale vengono a mutare per più di un quinto del loro precedente valore alcuni degli immobili condominali o tutti gli immobili condominali. Quindi il caso in cui ci sia un palese errore di calcolo oppure si è intervenuto sull'edificio un intervento strutturale edilizio che muta radicalmente quindi per cui di un quinto quindi una mutazione assolutamente importante le dimensioni e le particolarità del edificio stesso coinvolgendo quasi tutti gli immobili allora l'Assemblea può essere chiamata a rivedere ovviamente sulla base di criteri tecnici oggettivi numerici tutti i valori millesimali questo è molto importante anche in ragione di oggettiva giustizia perché è frequente che ci siano proprietari che si trovino magari a pagare le stesse spese condominali di un tempo quando invece è mutata la loro condizione millesimale e dovrebbero sicuramente pagare di meno come quelli che invece dovrebbero pagare di più. Allora per quanto riguarda l'errore quindi il primo caso per cui l'Assemblea può intervenire senza l'unanimità ricordiamo che esso deve essere assolutamente oggettivo ossia rilevabile in maniera aritmetica, numerica ovviamente grazie all'apporto di un tecnico in questi casi un architetto, un geometra e a mezzo appunto di una perizia, un'indicazione da parte di un tecnico qualificato il condomino che si accorge o i condomini che si accorgono di questa difformità hanno l'onere di portarla all'attenzione dell'Assemblea l'Assemblea che appunto dovrà prendere i provvedimenti necessari. È chiaro che chi commissiona una perizia per verificare se i millesimi sono congrui o meno dovrà comunque pagarsi questa perizia, però potrà chiedere appunto all'Assemblea che venga riconosciuto lo stato di fatto effettivo del proprio immobile. Per quanto riguarda invece le trasformazioni sostanziali degli edifici che intervengono in maniera importante su appunto la dimensione, la proporzionalità degli appartamenti possiamo ricordare alcuni esempi pratici, ad esempio la frequente trasformazione dei sottotetti o delle cantine che vengono trasformate in taverne, in appartamenti. Molto spesso questi interventi impongono il mutamento, la revisione delle tabelle millesimali che possono coinvolgere tutto il palazzo. Abbiamo ad esempio le soprelevazioni che sono degli interventi anch'essi abbastanza frequenti che come è evidente portano a tale radicale mutamento dell'edificio che impongono la revisione delle tabelle millesimali. Anche i cambi di destinazione d'uso o i frazionamenti degli immobili precedentemente inquadrati nelle tabelle millesimali impongono spesso e volentieri la revisione delle stesse. Come invece a volte viene chiesto, non è necessaria la revisione delle tabelle millesimali quando si procede ad esempio alla mera chiusura di un balcone in veranda abbastanza frequente nei nostri palazzi, si vedono anche dalla strada, questi balconi che diventano delle verande possono forse a volte essere degli abusi, ma questo è un altro discorso, comunque non comportano la necessità di rivedere le tabelle millesimali. Come ad esempio, sempre per essere molto pratici, anche ad esempio i collegamenti interni che si fanno fra gli appartamenti dell'ultimo piano e i lastrici solari o i solai di uso esclusivo. Non comportano nessuna necessità di rivedere le tabelle millesimali. Un consiglio assolutamente importante è che come abbiamo potuto capire anche solo da questi pochi minuti in cui ne stiamo parlando, trattasi di materia altamente tecnica, molto specifica, indispensabile in questi casi, anche in sede assembleare, l'assistenza senz'altro di un tecnico, di un geometro, di un architetto e ovviamente di un legale. Rimborso Tarsu, chi può chiederlo e quando? Sentiamo l'Avvocato Pollastro. Buonasera a tutti, voglio chiacchierare stasera di un problema sul quale molti discutono, molti parlano e anche qui si sono poi, rimbalzano anche informazioni non esatte. Sto parlando della questione del rimborso cosiddetta della tassa rifiuti, la vecchia Tia, poi della Tarsu o comunque i vari comuni l'hanno chiamata. Vediamo di essere chiari, vediamo di essere chiari, non stiamo parlando, non esiste un problema di rimborso della tassa, ma esiste un problema di rimborso dell'IVA pagata sulla tassa, in quanto molti comuni d'Italia hanno applicato, nel momento del passaggio al nuovo sistema di pagamento, diciamo, dell'imposta sui rifiuti, hanno applicato l'IVA, l'IVA del 10%, su questo problema quindi non stiamo parlando di rimborso integrale, ribadisco, stiamo parlando del rimborso dell'IVA del 10%, che però, attenzione, l'IVA 10% se uno ha una tassa rifiuti di 250 Euro l'anno, sono sempre i suoi 25 Euro l'anno che hanno il loro peso, anche perché ripetuto tutti gli anni al suo peso. Il problema non è un errore o un malizioso comportamento del comune, perché lì il problema dell'applicazione o meno dell'IVA è stato un problematica assolutamente e ripetutamente discursi, su quale gli avvocati e i giudici si sono accapigliati, nel senso che a giudizio dello Stato, in modo particolare da parte dell'Agenzia delle Entrate, vi era un orientamento chiaro, netto, secco, che si dovesse applicare l'IVA anche sulla tassa rifiuti. La Cassazione, i giudici a livello di, al massimo lì, organo diciamo dell'ordinamento giudiziario, quindi la Cassazione, hanno ormai ribadito la propria ormai conforme giurisprudenza, che ormai appare, io mi permetto di dire, monolitica, nel senso di dire che non è un servizio, ma essendo una tassa, sulle tasse non c'è IVA e quindi il cittadino non doveva pagare l'IVA su quella tassa, su quel contributo che quindi non è il costo di un servizio, ma è una tassa e ha diritto oggi al rimborso. Voi mi direte, eh ma il Comune allora a questo punto quando se ne accorge deve restituirli. Certo, da un punto di vista teorico, la pubblica amministrazione quando si accorge che c'è un errore nel proprio comportamento non solo avrebbe il diritto, ha il diritto, ma avrebbe in qualche modo anche il dovere di autocorreggersi attraverso un'operazione che si chiama autotutela, cioè in buona sostanza la pubblica amministrazione dovrebbe intervenire e sto sentendo che alcuni comuni, anche comuni importanti, stanno ragionando di intervenire senza che il cittadino chieda il rimborso dell'IVA, cioè in buona sostanza abbonando, restituendo questa IVA non dovuta. Se però il Comune non opera o non interviene in questo modo, il cittadino deve fare una esplicita domanda. Attenzione, ci sono queste, diritto a rimborso, si prescrive in dieci anni, da oggi indietro dieci anni, dato che il problema della TIA Tarso è partito al 2009, poi dipende dai vari comuni, però diciamo 2009-2010, questo vuol dire che per non perdere i primi anni bisogna muoversi con decorosa rapidità, cioè stiamo parlando di uno o due anni, non è che stiamo parlando di due giorni o due settimane, però la cosa non è che ne possiamo parlare fra 15 anni, perché sennò i diritti si perdono. Cosa deve fare il cittadino? Una cosa molto semplice, la prima cosa è informarsi se effettivamente l'IVA è stata richiesta dal Comune ed è stata pagata, nel senso che se il Comune in cui chiunque di voi abita non ha chiesto l'IVA, comportandosi in maniera assolutamente corretta, anticipando le posizioni della casazione già in passato, è chiaro che non gli si può chiedere in rimborso nulla. Se invece l'operazione è stata fatta, il mio consiglio è di scartabellare nelle proprie cassetti, recuperare le proprie bollettini di pagamento e fare una domanda. Cosa vuol dire fare una domanda? La domanda è molto semplice, vuol dire scrivere in buona sostanza chi si è e dove si abita, che su questo sono state pagate quella tassazione, quell'IVA si chiede il rimborso, allegando la fotocopia dei bollettini. Facciamo al più semplice, il consiglio è di andare in Comune, molti Comuni addirittura hanno preparato già loro dei moduli o eventualmente anche andare presso un'associazione di consumatori, un'organizzazione sindacale, un patronato che faccia questo servizio. Oppure uno se lo fa da solo perché sono quattro righe da scrivere. Mi permetto, spero che nessuno si offenda, di non andare da un avvocato per fare una cosa di questo tipo. L'avvocato ingiustamente, dipende dalla mia categoria, vanno compensati e credo che il gioco non va candela, cioè non conviene andare a investire dei soldi per un'operazione ormai molto anche ritualizzata e in qualche modo sulla quale i Comuni sanno benissimo di cosa si sta parlando e che tipo di domanda sia. Grazie. Grazie.